Benvenuti e bentornati su RealNapoliFootball. Ragazzi, abbiamo beccato una sconfitta che potrebbe sembrare pesante contro lo Sporting per 3-1, ma tant'è. Prima sconfitta in questa divisione, andiamo a cercare subito il prossimo avversario per provare a rifarci. Come sempre, se vi fa piacere lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, magari commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Vediamo chi ci capita. Napoli contro l'ignoto, dal mio punto di vista, Azmalc. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Ah, non ho visto nemmeno la posizione, vabbè. Comunque, qua stanno tutti bene. Il nostro avversario è già una avversario. Ah, è stata molto larga, va bene. Porca puttana. Un po' di fenomeni. Va bene così, andiamo al match, ragazzi. Aston Villa. Vediamo se riusciamo a riprenderci. Dopo l'ultima partita, un po' giocata un pochino, non proprio al top. Posimenti. Palla verso Nathan. Rackmani. Allarga subito per Di Lorenzo. Di Lorenzo. Poggia per Politano. Politano, vede dentro lo botta. Subito per Zilischi. Driven Zielo. Prova a metterla, però si man qua. Secondo me c'era un po' di fallo, ma niente da fare. Attenzione, prova ad allargare verso Cantona. Non ci credo. 1-0 a Rivaldo, ragazzi. Ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Una bella conclusione, non c'è che dire. Ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non hai riuscito a vederla partire. Numero 24. Porca croce. Volgo rivederlo. Ha fatto una giocata pazzesca, secondo me. Vabbè. Lobotka. Lobotka si gira e brivido. Rachmani allarga per Di Lorenzo. Va da Politano. Prova a cercare Anghissà. Qua, ovviamente, non siamo minimamente fortunati. Torna Anghissà, attenzione. Palla per Rachmani. Va verso Lobotka. Cerca Zilischi che fa correre Mario Lui. Liberato da Diego. Attenzione, Rivaldo. Prova ad andare ancora alla Stoneville. La Cruyff. Rachmani la mette fuori da Politano che cerca Zilischi. Zilischi la dà Kvara a Schelia. Dreaming di Kvara. Si ferma Kvara. Riesce a darla a Mario Lui. Attenzione, Nathan. Mar. Recupera Nathan su Maradona. Nathan. Palla per Zilischi che si gira. Dreaming di Zielo la dà Do Simen. E che allarga di esterno a Mario Lui. Che proverà a ridargli la verso Simen. Niente da fare. Palla fuori dei Villan. Attenzione. Eh, se ne va Diego qui su Nathan. Torna anche Anghissà su Neymar. Che tira. Meret para. Parata di Meret. Che adesso rilancia verso Vittorosimena. Che prova a recuperare questa palla. Non ci riesce. La recupera Zamba Anghissà. Scende Anghissà. Errore di Anghissà qui. Politano. Palla nostra comunque. Andiamo a scuoterci un secondo ragazzi. Di Lorenzo. Palla per Rachmani. Politano. Va ad Anghissà. Chi allunga per Lobotka. Brutta palla di Lobotka. Nathan anticipa. Attenzione Nathan. Palla per Cavaraschelia. Va da Ziedischi. Ziedischi dentro per Vittorosimena. La parata. Incredibile. Del portiere. Bella giocata di Ziedischi per Rosi. Stiamo provando a costruire. Ziedischi verso Rachmani. Ziedischi. Attenzione Rachmani per prendere posizione. La palla arriva. Politano che tira. Donna Roma la mette ancora fuori. Ancora calcio d'angolo. Bisogna lotare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Ziedischi cerca Vittorosimena. Questa volta Osimena. Niente da fare. Anghissà. Prende palla. La dà Giannino Di Lorenzo. Va da Ziedischi. Cross e mezzo. Colt-Varaschela di testa. Palla fuori. Giocata non proprio bellissima qua. Stiamo provando a spingere. Cavara-Schela. Palla verso Politano che non è in fuorigioco. Scende Politano. Politano. Politano dentro per Osimena. Vitto. Osimena. Parigia. Non si può Fabio. Bene così ragazzi. La riprendiamo. Va bene sa. Grazie sempre per la compagnia. Ci aggiorniamo. Ci provo. 1-1. Vittor. Attenzione. Maldene. Prova a rilanciare lungo. Nathan. Prova a metterla fuori. Niente da fare. Anghissà. Vanno loro. Lobotka. Verre copropalla. Lobo. Fa correre Ziedischi. Che scende? Ziedischi. Vada Mario Rui. Scende Mario Rui. Mario Rui. La ridà. Ziedischi. Che prova ad aspettare Ziedischi. Ancora per Rui. Ancora. Per Ziedischi. La palla resta lì. Peccato. Attenzione. Kvara. Schelia. Kvara. Cross in mezzo. Arriva Politano. Palla pure. Qua poco fortunati. Perché Mario Rui su quella lungo palla. Non si allungava così tanto. Sarebbe stato diverso. Intanto ricomincia la scondella. Ziedischi. Osimena. Non riesce a recuperare palla qua. Ziedischi. Sì ancora. Osia a recuperare palla. Palla per Ziedischi. Che entra. Ziedischi. Che tira. La parata di Donna Rumma. Che grande parata. Sembrava aver sorpreso il portiere. Calcio d'angolo ancora. Un intervento d'applausi. Calcio d'angolo ancora. Con Ziedischi. Che cercherà ancora. Amir Rachmani. Ziedischi verso Rachmani. Che proverà a rimetterla dentro. Troppo per Osimena. Donna Rumma ancora. Donna Rumma ancora ragazzi. Stiamo accumulando occasioni. Ziedischi ancora palla. Verso Rachmani. Che sta funzionando la situazione. Rachmani ancora. Stavolta la mette sul fondo. Purtroppo. Non è sempre Pasqua. Come si suol dire. Donna Rumma. Rilancio lungo. Verso Ziedischi. Che l'appoggia. Do si manca. E fa correre Politano. Se ne va Politano. Politano. Fa l'accio su Politano. E penso sia anche Rosso. Ragazzi. Una punizione. Gesù. Con quel rosso. Per Bombissaca. No. Non è Bombissaca. Cazzo. Alfonso Davis. Ma intanto. Mi hanno buttato il giocatore a terra. Giusto. Poco prima dell'area di rigore. Zieli. Che palla sulla barriera. Palla recuperata. Attenzione Mario Rui. Mario Rui appoggia per Cavaraschela. Dribling di Cavara. Che se ne va. Ancora Cavara. Cavaraschela. Dentro per Osimen. Niente da fare. Anghissà. Ricopra palla. Anghissà. Anghissà. Dentro per Politano. Errore di Anghissà. Peccato di Lorenzo. Brecca ancora di Giannino di Lorenzo. Che se ne va. Scende di Lorenzo. Che prova il cross dalla tre quarti. Anticipato. Quara Schelia. E sarà ancora calcio d'angolo. Assedio totale adesso. Con il nostro avversario in dieci. Con Zielinski. Che andrà ancora da Raccamani. Che la rimette dentro. Però si menne. E poi Politano. Questa volta l'appoggia in porta. Matteo Politano. Settimo gol stagionale per Matteo. Era riuscito a opporsi alla prima conclusione. Ma non poteva fare nulla. 2 a 1. Attenzione. Prova a ripartire. La Stonvilla. Mario Rui. Verre copropalla di Mario Rui. Palla per Zielinski. Che fa. Corre. Cavara. Schelia. Scende. Cavara. 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 Lontano. Verso Simen. Che appoggia. D'anghissà. Che vada Mario Rui. Scende Mario Rui. Vada. Cavara. Schelia. Si gira. Cavara. Appoggia per Zielinski. Che purtroppo. Non riesce a fare di più. O Simen. Palla per Zielinski. Zielinski dentro per Osi. Errore qui. Di Zielinski. Purtroppo. Lobotka. Lobotka. Allarga per Mario Rui. Vada. Cavara. Schelia. Si ferma. Cavara. Schelia. Dentro per Zielo. Tacco per Osi. Simen. Palla fuori. Arriva Mario Rui. Penso che finisce qui il primo tempo ragazzi. Un primo tempo di assedio contro la Stonvilla. Soprattutto dopo l'escursione loro. Stiamo tirando tanto. Dobbiamo assolutamente andare a chiuderla. Si riparte. Secondo tempo. Ci provano subito loro. Mario Rui ricoprerà subito. Palla con Zidischi. Che vada Politano dentro per Osi. Ancora per Politano. Ancora dentro per Osi. Man che sbaglia lo stop qui però. Niente da fare. Attenzione di Lorenzo. Grazie copropola di Giannino Di Lorenzo. Prova ad andarsene. La dà Politano. Tacco per Anghissa. Ancora per Politano. Politano dentro. Per Anghissa. Ancora per Politano. Che crossa. E' menso per Osi. Man. Donnarumma. E' ancora calcio d'angolo. Attenzione. Zidischi. Ancora verso Mirracamani. Che prova a metterla dentro ancora. Arriva Anghissa. Poggia per Racamani. Entro per Di Lorenzo. Che prova a sparare. Palla fuori. Ci ha provato anche Giannino. Donnarumma. Rilancio lungo. Anghissa. Svetta. E' la dà Politano. Che prova a far correre subito. Si man. Anticipato da Bergomi. Qui. Zidischi. Zidischi. No. Errore di Zielo. Qua. Dentro per Cruyff. Cruyff. Arriva Meret. Anticipo pazzesco di Alex. Abbiamo inutilmente rischiato qui. Inutilmente rischiato. Attenzione. Zidischi. La mette fuori. Cavaraschella. Dentro per Rosimena. Bergomi. Incredibile. Poi Zidischi. Anghissa. Attenzione. Ancora loro. Raif. Zidischi. Dai Zielo. Dai però. Palla. Alla fine Zidischi. E la dà a Politano. Scende Politano. 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 Prova a metterla poi dentro per Anghissa. Errore di Politano. Stiamo cominciando a giocare Maluccio. Adesso dobbiamo stare attenti. Perché siamo avanti di un solo gol. Purtroppo attenzione. Provano ad attaccare loro. Di Lorenzo. Recupera la palla e prova a metterla fuori. La riconsegna a Maldini. Però Mario Ruiz su Maradona. Palla fuori. Non ci credo. Diocane. Bastardo. Infame. Porca troia. Che faccio ste stronzate. Lobotca. Palla per Di Lorenzo. Allarga per Politano. Scende Politano. 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 Poggia dietro per Lobotca. Anghissa dentro per Politano. Che cross. E mezzo. Covara Skellia di testa. Attenzione. Ancora Covara. La parata. Arriva ancora in vista. Non ci credo. Ma che cazzo. Non ci credo. Non ci credo ragazzi. Non ci credo. Donna Roma. Attenzione. Mario Ruiz. Ziedischi. Qua anticipato con fallo. Secondo me. Se ne va Cruyff. Attenzione. Cruyff ancora. Fa tutto Cruyff. Ma dai ragazzi. Ma siamo seri. Non ci credo. Mamma mia. Questo come cazzo sta vincendo ragazzi. Doppio mediano. Ma ragazzi. Io non ci credo. Non ci credo. Veramente. Veramente non ci credo. Vabbè. Proviamo ad andarla a riprendere. Incredibile. Allucinante. Nata. Bracamani. Vada Di Lorenzo. Proviamo un attimo a ricostruire un po' questa partita. Di Lorenzo scende. Giannino Di Lorenzo. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Dentro per Ingonge. Ingonge. Si ferma. Ma ancora dentro. Di Lorenzo. Che prova a crossare. Guarda là. Guarda là. Guarda là. Donna Roma. Nathan. Recupera palla. Di Lorenzo. Subito dentro per Ingonge. Ingonge. Maradona. Cerca Ingonge. Non ci credo minimamente a quello che sta succedendo in questa partita. Ingonge è qua. Recupera palla Ingonge. Prova ad andarsene in Ingonge ancora. Attenzione. Ah no. Come Ingonge è qua. Sto dicendo ingonge da noi. Gli sta. Gli sta. Gli sta. Gli sta dentro per Maradona. Maradona. Si ne va a Maradona. Crossi in mezzo. Deviazione. Calcio d'angolo. Maradona. Prova a crossare. Per Sosimen. Che non riesce a tirare in porta qua. Cavaraschelia. Dentro per Ingonge. Donna Roma. Ancora. Donna Roma. Ancora. Un'ottima reazione da parte loro. Dopo il gol subito. Maradona. Dentro per Vittorosimen. Niente da fare. Olivera. Prova a sparare Olivera. Calcio d'angolo ancora. Partita assurda fino ad ora ragazzi. Assurda. Veramente assurda. Maradona. Andrà verso Racamani. Che proverà a rimetterla dentro. Ci riesce Sosimen. Riesce a sbattere dentro. Lobotka. Racamani. Dentro Ben Gonger. Errore qui di Racamani. E riparte la Stoneville con Di Lorenzo. Che fa recuperare questa palla. Anghissa scende. Scende Anghissa. Vada Maradona. Attenzione Maradona. Maradona verso Semen. Sosimen. Maradona scende. Vabbè. Ricore negato. Assurdo. Gonger dentro per Maradona. Che recupera questa palla. Maradona. Maradona ancora palla per Gonger. Che prova a crossare dentro. Niente da fare. Attenzione Olivera. No. L'avversario dunque punizione. Era un'azione pericolosa e in qualche modo andava fermata. Con le buone o con le cattive. Loro Fabio hanno scelto le cattive. Non ci credo. Ma non li biasimo. Ogni tanto ci vuole. Non ci credo ragazzi. Gonger recupera palla. Prova ad andare dentro da Osimen. Palla per Anghissa. Scende Anghissa. Errore. Gli zambi Anghissa purtroppo. Niente da fare ragazzi. Olivera. Palla ancora per Cavaraschelia. Va da Maradona. Che va da Anghissa. Che scende Anghissa. Verso Angonge. Si ferma Angonge. Di Lorenzo. Prova a recuperare questa palla. Di Lorenzo. Di Lorenzo dentro per Anghissa. Osimen. Niente da fare. Che parte Cantona ancora. Credibile ragazzi. Che partita ho perso. Che partita ho perso ragazzi. E' addirittura 4 a 2. Vero? Non ci credo ragazzi. Perdiamo una partita assurda ragazzi. Non ci posso credere. 20 di a porta 5. Perdiamo 3 a 2. Male così ragazzi. Molto molto male così. Ci vediamo alla prossima puntata. Mamma mia che partita di merda. Mamma mia che partita di merda. Mamma mia che partita di merda.